scusami no stai stai pure tanto e deve farla entrare piano piano il sistema è espessibilizzato si 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 ma le carte sai che belle se sono piccole e nolini dipende crescono da 100 litri 100 litri ne puoi mettere in questa dimensione qua ne puoi mettere 5 due anni e dopo gli devi costruire un bel laghetto è proprio una facoltà successiva beh li puoi vendere ma in questo mercato pur che miseria se chi ti acquista per pagare i luoghi così non vuole uscire non vuole uscire non vuole